Shalom, pace a voi, buona domenica. Siamo alla diciannovesima domenica del tempo ordinario, in questo clima caldo del mese di agosto, mentre si vivono momenti di relax e di ferie, la parola di Dio ci raggiunge dovunque noi ci troviamo, perché è sempre una parola che dà vita, dà forza, dà senso a tutto quello che noi viviamo. Shalom a voi cari anziani e cari malati, come per sempre per voi il mio primo saluto di pace, di serenità, di gioia, soprattutto in questo periodo in cui tante volte possiamo essere soli, ritrovarci con la nostra sofferenza, con la nostra solitudine. E questo naturalmente lo avvertiamo molto più profondamente. Allora abbiamo bisogno di sentirci vicino a qualcuno. Il Signore vi è vicino, il Signore vi sta accanto, il Signore non vi lascia mai, il Signore non vi abbandona, il Signore vi dà la forza. Shalom, pace, cari anziani e cari malati, a voi con grande forza questo augurio di pace, perché il vostro cuore viva nella serenità e nella gioia. Shalom a voi cari ragazzi e cari giovani, per voi ormai è tempo di ferie, di vacanze, aprite il vostro cuore alle belle realtà della vita, cari ragazzi e cari giovani. Sappiate scegliere i momenti da vivere e da viverli nel modo migliore, sappiate vivere esperienze nuove, fare scoperte nuove, sappiate che questi sono i momenti nei quali voi costruite la vostra vita allargando gli orizzonti del vostro cuore. Tante volte nel tempo di vacanza si fanno esperienze di ambienti nuovi, si vivono realtà nuove, si visitano ambienti nuovi e questo arricchisce il nostro cuore. Cari ragazzi e cari giovani, facciamo in modo che questo sia un tempo ricco, non un tempo povero per la nostra cultura e il nostro spirito. Shalom a voi, care famiglie, come sempre il mio augurio e il mio saluto a voi famiglie anche in questo tempo di vacanza, che la domenica sia il giorno della famiglia, il giorno in cui la famiglia vive l'esperienza della gioia, dello stare insieme, di vivere quell'amore che il Signore ci insegna, quell'amore vero che è dono, che è accoglienza, che è solidarietà e condivisione e che la domenica diventi per ogni famiglia il giorno del Signore, il giorno in cui la famiglia si incontra intorno all'altare per vivere e ascoltare la parola del Signore. Shalom a voi, cari telespettatori. La parola di Dio è una parola che sempre ci raggiunge, dovunque noi ci troviamo. Non ci sono ambienti e non ci sono luoghi dove la parola non risuona. E anche in questa domenica, nel pieno dell'estate, la parola di Dio risuona e Gesù ancora una volta si rivolge a noi e dice «Io sono il pane vivo disceso dal cielo». Ancora una volta Gesù dice «Io sono», cioè io sono colui che dà senso alla vostra vita, io sono colui che riempie il vostro cuore, che vi sazia per quella fame e quella sete che c'è nel cuore di ogni uomo. «Io sono il pane vivo disceso dal cielo». Molti mormoravano, dicevano «Ma come può costruidarci la sua carne da mangiare?» Ma Gesù dice ancora «I vostri padri hanno mangiato la manna nel deserto e sono morti». «Io sono il pane vivo», cioè dobbiamo aprire il nostro cuore. Miei cari, anche in questo tempo di vacanze, credo soprattutto in questo tempo di vacanze, nel quale abbiamo momenti maggiori di riflessione, di silenzio, ascoltiamo e facciamo risuonare in noi la parola del Signore. «Io sono il pane della vita, io non ti lascio solo, io non ti abbandono, io sono con te dovunque tu ti trovi, io sono con te per darti la forza per affrontare le difficoltà e i problemi della vita, ma sono con te per dissetare la tua sete di autenticità, di valori, di gioia. Io sono con te nei momenti della gioia, della serenità». Ecco, dobbiamo avvertire la presenza del Signore. Credo che questa è l'esperienza vera che noi dobbiamo fare nel tempo estivo, l'esperienza della presenza del Signore. Quelli «Io sono» il pane vivo disceso dal cielo, «Io sono» deve risuonare nel nostro cuore. E deve diventare la certezza della nostra fede e deve diventare la certezza del nostro cuore. Dobbiamo essere certi che il Signore è con noi e che il Signore ci sta vicino. Tante volte noi facciamo esperienza di solitudine, tante volte facciamo esperienza di insoddisfazione a livello spirituale. Ed è vero, ci sono tante preoccupazioni attorno a noi, tanti momenti difficili, ci sono delle sofferenze, ci sono delle realtà che ci fanno un pochettino soffrire. Ma proprio in queste realtà noi dobbiamo sentire quella parola del Signore. Io sono il pane della vita, io sono colui che ti riempie, io sono colui che ti soddisfa, io sono colui che rende il tuo cuore pieno di quella gioia vera, di quella gioia che dà soddisfazione e che fa guardare con serenità avanti nei giorni della nostra vita. Ascoltiamo il Signore che si rivolge a noi, accogliamo la sua parola nel nostro cuore. È tempo d'estate, è tempo di vacanza, ma non tempo di vuoto, è tempo di ricchezza, perché il Signore è con noi. Shalom, pace a voi, buona domenica. Sous-titrage ST' 501